La mia più grande passione nasce da ragazzino, quando avevo più o meno 11-12 anni, quando mio nonno mi ha regalato il mio primo motorino e io l'ho smontato, rimontato, distrutto. Da lì ho detto che questa è la mia passione e voglio approfondirla per magari in un futuro fare le corse. Ho scoperto la MTS, ho avuto questa occasione che mi ha aperto un mondo nuovo, ho imparato tantissime cose che non sapevo neanche esistessero, dei metodi nuovi di smontaggio, rimontaggio, una grande occasione diciamo. Il corso base, il primo giorno non me l'aspettavo, ci hanno dato un motore, è stata una bella occasione per mettermi in gioco e anche vedere cose nuove. Dopo man mano che smontavamo così, ci spiegavano i vari componenti, come funzionavano. Dopo il corso base sono passato al corso racing. Non volevo passare subito al corso racing che non sapevo, non ero sicuro di passare alle selezioni e ho detto che ho voluto fare il corso base per avere un'infarinatura diciamo. Il mio sogno è un moto mondiale, arrivare nei team quelli più grandi e mettermi in gioco. Farei vedere che pago qualcosa, grazie all'aiuto di questa scuola. Grazie a tutti.